Abbiamo detto carissimi che il nostro Signore Gesù dice nella sua parola che noi non possiamo vivere di solo pane, noi non possiamo vivere di solo pane, ma dobbiamo vivere per mezzo di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, perché la parola di Dio è il vero pane, è il vero pane che sazia l'anima, la parola di Dio è il pane della vita, Gesù Cristo ha detto cari, Gesù dice nel Vangelo io sono il pane della vita che è disceso dal cielo per dare vita a questo mondo, Gesù Cristo è il pane della vita, per questo che noi dobbiamo avvicinarci a Gesù Cristo, perché lontano da Gesù Cristo siamo vuoti, siamo persi, siamo nelle tenebre, perché Lui è la luce, Lui è la vita, Lui è la verità, ascoltate cosa dice il Signore tramite il profeta Isaia cari, capitolo 55 dice il Signore, Dio aiutaci a predicare la tua parola, alleluia, dice il Signore perché spendete denaro per ciò che non è pane, è il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia, ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, la vostra anima gusterà cibi succulenti, porgete l'orecchio e venite a me dice l'eterno, ascoltate la vostra anima, vivrà e io stabilirò con voi un patto eterno secondo le grazie stabili promesse a Davide e poi più avanti dice cercate l'eterno, cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre egli è vicino, cari il nostro scopo supremo in questa vita deve essere quello di conoscere Dio, conoscere il Signore, cercare il Signore, la parola di Dio dice ascoltatemi e la vostra anima vivrà, per quale motivo? Perché la parola di Dio è vita, la parola di Cristo è vita, la parola del Signore è vita, il Vangelo è vita, la parola di Dio è vita, il Signore dice ascoltatemi ascoltatemi e la vostra anima vivrà, questo è il grave problema dell'umanità, l'umanità non vuole più ascoltare la parola di Dio, gli uomini non vogliono più dire la parola del Signore, non vogliono più ascoltare i buoni consigli che procedono dallo Spirito di Dio, non vogliono più dire le parole della fede, gli uomini sono diventati insensibili, gli uomini sono diventati ribelli, gli uomini sono diventati insensibili, il cuore dell'uomo è diventato come una pietra, sono buoni quel che vuole ascoltare, le parole di Dio, la maggior parte dell'umanità cammina nella ribellione, nell'ospinatezza, nell'orgoglio, nell'incredulità, ecco perché il mondo si sta rovinando, ecco perché il mondo è un mondo decaduto, che giorno per giorno l'uomo sta distruggendo questo pianeta, con le guerre, col proprio egoismo, con la propria malvagità, con la propria ribellione, gli uomini hanno danneggiato questa creazione, che era una creazione meravigliosa, perfetta, che l'eterno Dio aveva creato, ma noi abbiamo rovinato questo mondo, la Bibbia ci insegna, cari, ancora qualche minuto voglio predicare, la Bibbia ci insegna che quando Dio creò questo mondo, questo mondo era come un giardino, era come un giardino pieno di pace, pieno di frutti meravigliosi, era come un giardino dove regnava l'armonia fra Dio e l'uomo, il giardino dell'Eden, la conoscete la storia? Dio creò questo mondo che era come un giardino, un giardino di benedizione, un giardino di pace, un giardino dove la presenza di Dio regnava in armonia, dove l'uomo e Dio dialogavano, ascoltate, lo dice la Bibbia, dove l'uomo e Dio dialogavano, comunicavano, era così la vita nel giardino dell'Eden, l'uomo viveva in contatto con il Signore nella luce, nella grazia, nella benedizione, nella pace, nella serenità, ma la Bibbia dice che purtroppo, cari, gli uomini si ribellarono, gli uomini si ribellarono a Dio e da quando gli uomini si ribellarono, questo giardino che era la terra, il giardino dell'Eden, diventò come un esempio, diventò una terra arida, una terra dove non crescevano più frutti, praticamente il giardino dell'Eden si trasformò in una terra maledetta, perché gli uomini disumidirono a Dio per colpa del peccato, per colpa dell'incere unità, per colpa della ribellione, cari, ma vi voglio dire, Dio che è misericordioso, non ci ha abbandonati, non ve lo dimenticate, non vi scoraggiate, non perdiate la fede, non perdiate la speranza, Dio non ci ha abbandonati, Dio ha mandato Gesù Cristo in questa terra, il Messia cari, il Salvatore del mondo, è venuto per restaurare il cuore dell'uomo che si era smarrito per causa del peccato, Gesù Cristo è venuto a ridarci la vita, perché noi avevamo perduto la vita, infatti Dio aveva detto ad Adamo, ed Eva disumidirono al Signore, mangiando di quell'albero che non dovevano mangiare, l'albero della conoscenza del bene e del male, Dio aveva dato tutti gli altri alberi del giardino dell'Eden, ma loro disumidirono, per quale ragione? Ascoltando la voce del serpente, in mezzo al giardino arrivò il serpente e questo è quello che fa il diavolo, il diavolo arriva per farci disumidire a Dio, il diavolo ci mette i dubbi, i cattivi pensieri, ci sussurra nell'orecchio, ma vai a fare questo, vai a fare l'altro, vai a peccare, vai a rubare, vatti a prostituire, vai a commettere l'adulterio, ma vatti a ubriacare, vai a fare il male e il diavolo sussurra nella mente degli uomini, sussurra la disumidienza e oggi cari, voi lo sapete, noi lo sappiamo, basta vedere la condizione della società, la maggior parte degli uomini stanno ubidendo alla voce del serpente, come nei tempi antichi, il diavolo entrò nel giardino dell'Eden per corrompere l'uomo, per far disumidire all'uomo, dice la scrittura che Satana entrò nella forma di un serpente per far peccare Adamo ed Eva, ancora oggi è così, ci sono uomini che si sono fatti ingannare dal diavolo, dal maligno che li ha ingannati con i dubbi, con i desideri cattivi, con i desideri malvagi, con la disubbedienza, la ribellione, questo è lo scopo di Satana, farci disubbedire a Dio, ma vi voglio dire una cosa, la Bibbia dice che il figlio di Dio, Gesù Cristo, è venuto sulla terra per distruggere le opere di Satana, alleluia, Gesù Cristo è venuto sulla terra per spezzare le catene, per liberarci dalle opere delle tenebre, Gesù Cristo è venuto per riconciliarci con Dio, Gesù Cristo è venuto per perdonarci, per guarirci, perché noi eravamo perduti, eravamo malati, cari di Rapallo, cari che siete qui, il peccato ha corrotto la nostra natura, noi siamo esseri peccatori, noi siamo esseri corrotti, il nostro cuore dice la Bibbia è malato, è un cuore malvagio, pieno di desideri cattivi, l'uomo non vuole più ubbidire a Dio, l'uomo desidera camminare nelle vie peccaminose, nei piaceri del mondo, nei piaceri della carne, nei desideri cattivi, l'uomo non vuole più ubbidire al Signore, è per questo che l'uomo ha bisogno della guarigione, alleluia, l'uomo ha bisogno della salvezza, l'uomo ha bisogno della redenzione e lo griderò ai 4 a 20, questo è il messaggio che Dio ha messo nei nostri cuori e lo predicheremo in tutta Italia, andremo da nord a sud a predicare, perché l'Italia ha bisogno della salvezza, l'Italia non ha bisogno di una religione, di una messa della domenica, l'Italia ha bisogno di Cristo, Rapallo ha bisogno di Cristo, cuore che sei qui, anima che sei qui, hai bisogno di Cristo. Vogliamo leggere per finire ciò che dice la Bibbia cari, questo messaggio potente, è il messaggio della verità, vi voglio dire l'Italia dice di essere una nazione religiosa, l'Italia dice di essere cristiana, ma quanti veri cristiani ci sono in Italia? Dov'è la fede degli italiani? Dov'è la spiritualità degli italiani? Dov'è il rispetto per Dio? Dov'è l'ubbidienza a Dio? Dov'è l'amore di Dio nell'Italia? Dov'è la tua fede Italia? L'Italia? Dov'è la tua fede? L'Italia dice, molti dicono io sono cattolico, apostolico, romano, vado a messa la domenica, ma al lunedì dov'è la tua fede? Al martedì dov'è la tua fede? Al mercoledì, alleluia, dov'è la tua fede? Al giovedì, al venerdì, al sabato, dov'è la tua vita cristiana? Dov'è la purezza? Dov'è la santità? Dov'è l'amore, la pace, la speranza? Dov'è? Non basta andare a messa la domenica, cari italiani, non basta. Molti vanno a messa la domenica, fanno gli angioletti in chiesa, si vestono come angioletti in chiesa e poi in casa sono dei diavoli, in casa sono dei demoni, in casa vivono come dei pagani, come dei ribelli, bestemmiatori, adulteri, ipocriti, il Signore non vuole questo, Dio è un Dio santo, Dio è un Dio giusto, Dio è un Dio veritiero, Dio non si può ingannare con la nostra ipocrisia, non si può, questo vale anche per me, io potrei essere qui con una bella giacca, mi potrei mettere una bella cravatta, potrei dire belle parole, ma poi in casa mia faccio cose impure, poi in casa mia ho un modo di parlare volgare, poi guardo i film porno di nascosto, pensate che io posso farla franca? Non posso farla franca, ipocrite, non entreranno nel regno di Dio, dobbiamo convertirci in verità, a cosa serve andare a messa la domenica se poi esci e hai l'odio verso il tuo vicino di casa? A cosa serve andare a messa la domenica se poi non ami il tuo prossimo? A cosa serve andare a messa la domenica se poi non vivi in contatto con Dio tutti gli altri giorni? A cosa serve andare a messa a internet. Grazie a tutti